Quanto riguarda l'organizzazione dei tamponi sul territorio, oltre a quelli che appunto necessitano di essere effettuati all'interno del domicilio perché appunto ammalati o quant'altro, per tutti quelli che devono fare il tampone perché guariti e quindi per avere il primo e il secondo tampone per poi avere la certificazione della guarigione, per tutti gli operatori che dopo malattia devono rientrare al lavoro o comunque anche, come ha detto il Presidente, tutti i tamponi che adesso eseguiremo partendo prima dai vigili del fuoco, poi appunto alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari o a chiunque altro deve fare il tampone e a chi ovviamente su appuntamento deve presentarsi presso i drive-thru, li abbiamo chiamati in questo modo, appunto arrivano con la propria macchina in queste sedi territoriali distribuite su tutto il territorio trentino, non occorre neanche scendere dalla macchina, gli viene effettuato il tampone da un operatore senza appunto scendere dalla macchina e in questo modo appunto riusciamo ad avere un numero maggiore di tamponi quotidiano. Le sedi dove sono stati organizzati questi drive-thru sono Roveretto, Trento, Pergine, Borgo, Tonadico, Predazzo, San Gianfassa, Cless, Mezzolombardo, Riva del Garda e Tione. Va bene precisare che non è che si passi lì davanti e si fa il tampone, no? Assolutamente no, tutti i tamponi vengono effettuati su appuntamento, quindi si può chiedere tramite mail ovviamente a chi deve fare il tampone perché appunto guarito o per altre motivazioni, alle mail che trova sul sito dell'azienda sanitaria, gli viene dato un appuntamento, chiediamo a chi riceve l'appuntamento di presentarsi, perché ci riportano casi in cui le persone non si presentano e quindi si perde purtroppo il tempo ad aspettare o comunque poteva arrivare qualcun altro appunto a fare il tampone, quindi chiediamo a chi riceve l'appuntamento di presentarsi oppure comunicare la propria assenza in maniera tale da poter sostituire il posto. I tamponi verranno effettuati anche in questo modo se ovviamente vi è la possibilità da parte delle famiglie dei ragazzi disabili che dalla prossima settimana ricominceranno ad andare presso i centri diurni e semiresidenziali. Oggi è partita la circolare dal Dipartimento delle Politiche Sociali per la riapertura dei centri per appunto disabili diurni e semiresidenziali. I tamponi verranno effettuati a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti. L'elenco è stato girato all'azienda sanitaria che organizzerà quindi suddivisi per territorio gli appuntamenti, quindi gli appuntamenti verranno gestiti dall'azienda sanitaria e verranno effettuati i tamponi a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti. E qua infatti c'era una domanda, chiedeva se se ne sarebbero occupati i medici di famiglia. No, no, noi abbiamo dato l'elenco all'azienda sanitaria, c'è proprio l'accordo per l'organizzazione degli appuntamenti, proprio perché abbiamo più o meno 2000 persone tra ospiti e operatori da fare i tamponi e quindi verrà gestito il tutto dall'azienda sanitaria proprio per organizzare al meglio i tamponi sul territorio.